Ci troviamo con Gian Domenico Salvatorin, quella di passo di Lavazè, altro raduno lungo di tre settimane per la squadra azzurra e quindi voglio partire un po' da qui. Insomma è cambiato anche questo con l'arrivo di Marcus Kramers, queste lunghe tre settimane di raduno. Sì, diciamo che questo è un raduno un po' più corto, sono due settimane e mezza rispetto ai due che abbiamo fatto al nord, in Norvegia, che erano di tre settimane. Però devo dire che innanzitutto con Marcus mi trovo molto bene, una persona molto semplice, ci c'è gli allenamenti da fare, sta a cercare tanto il pelo nell'uovo, diciamo, è abbastanza semplice. Mi sto trovando bene, sperando che arrivino anche dei buoni risultati d'inverno. Ecco, anche perché sì, giustamente uno dice che sta anche facendo molti sacrifici, no? Comunque star tanto tempo lontano da casa non è facile. Però pensi magari che in un momento di difficoltà in gara proprio questo possa essere anche una motivazione in più, ripensare ai sacrifici fatti? Sicuramente sono più sacrifici perché non eravamo abituati a star via così tanto da casa. I russi l'hanno sempre fatto, quindi adesso proviamo a farlo anche noi, l'anno scorso Defa e Chico avevano già provato questa esperienza. Poi con il gruppo io mi trovo bene, comunque Defa e Chico sono sempre stato in squadra assieme. E anche con Davide e Paolo ero in squadra l'anno scorso, quindi ci troviamo molto bene, la squadra è molto affiatata e andiamo tutti d'accordo. E quello è molto importante in una squadra quando si sta via da casa così tanto. Ecco, com'è stato ritrovare anche in allenamento sia Pellegrino che De Fabiani? Beh, loro... per loro parlano i risultati, si sa che sono due persone, due atleti molto forti. Ho sempre avuto modo per tanti anni di allenarmi con loro e sicuramente alzano il livello in una squadra. Ma comunque anche i due più giovani hanno le carte in regola per andare molto forti, secondo me. Ecco, con la metodologia di Marcus Kramer, insomma, con sia subito questo carico già dall'inizio settimana con più ore la prima settimana e poi questa è tanta tanta corsa. Come ti stai trovando? Sì, sono cambiate parecchie cose. Sì, la prima settimana con parecchie ore, poca bici rispetto agli anni scorsi e tanta tanta corsa. Per adesso sto sopportando le ore e tutti i carichi. Sì, speriamo di non avere problemi. Sì, è cambiato parecchio, secondo me, nell'allenamento. Sì, ormai ho 30 anni e vediamo se mi porterà dei benefici in quest'inverno o comunque magari nei prossimi anni. Sì, è importante, è una ragione anche su due anni perché questo sarà il primo inverno magari anche per te con una nuova metodologia. Quindi magari bisogna anche un po' avere pazienza e fiducia. Eh sì, non è detto che in un anno, sì, neanche Marcus non è che ha la bacchetta magica. Ci vorrà un po' di tempo e questo è il suo metodo e cerchiamo di metterlo in pratica. Però senti, per te quanto è stato importante il finale della passata stagione, soprattutto la 50 di All-Man Call, ma anche una buona Olimpiade, no? Per ripartire con magari maggior motivazione e anche fiducia in te stesso. Eh, finire bene la stagione è sempre molto importante, secondo me. Io faccio sempre molta fatica il primo mese e mezzo a ingranare. Infatti anche quest'anno con l'arrivo di Marcus spero di riuscire a partire un po' più forte, già le prime gare, senza tribular sempre il primo mese e mezzo. Perché faccio sempre una... tanta fatica e poi quando mi sblocco, sì, mi sembra essere un'altra persona. Senti, cosa pensi dei cambiamenti in FIS, decisi dalla FIS, insomma, sia per quanto riguarda i montaggi della Coppa del Mondo, ossia per quanto riguarda le distanze? Perché poi giustamente cambia molto per la distanza per le donne, ma cambia forse soprattutto per gli uomini in qualche modo, gare più corte. Eh, una 10 chilometri cambia parecchio rispetto a una 15. Si è una gara molto più tirata, ma dove non è che si può partire a tutta, perché si rischia veramente di non arrivare più. Una 15, bisogna... sì, bisogna sempre gestirle bene, sono gare diverse. Fino a qualche anno fa c'erano... c'erano già qualche 10 chilometri in Coppa del Mondo, dopo sono state tolte, adesso sono state rimesse, quindi... vedremo... vedremo quest'inverno come saranno i risultati di questi cambiamenti. Obiettivo stagionale? Beh, obiettivo stagionale, c'erano i mondiali quest'anno a Planissa, sicuramente quelli si punta a far bene. Però a ogni tappa di Coppa del Mondo, dove prendo parte, io cerco di tirar fuori il massimo e tirar fuori gli ottimi risultati, ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.